Scatta il sequestro di tre beni immobili situati a Serra di Falco per un valore di 36 mila euro riconducibili ad Antonello Montante, condannato recentemente otto anni nel processo d'appello scaturito dall'inchiesta Double Face. Il sequestro è stato disposto dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha accolto la richiesta del legale di parte civile del Comune Nisseno, l'avvocato Raffaele Palermo. Il Comune ha scelto di entrare in giudizio come parte offesa per i danni di immagine arrecati alla città dal cosiddetto sistema montante. Secondo l'accusa, l'ex presidente di Sicindustria avrebbe messo in piedi un'attività di dossieraggio, potendo disporre di notizie riservate per colpire i propri avversari e avrebbe condizionato la politica regionale. Associazione a delinquere, corruzione, accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, i reati contestati a vario titolo agli imputati.